Benvenuti nel mondo degli orologi Van Cleef e Arpels. Van Cleef e Arpels è uno dei marchi più noti e apprezzati nel mondo dell'alta gioielleria e dell'orologeria di lusso. Fondata nel 1906 a Parigi, in Francia, l'azienda ha creato un'immagine di raffinatezza ed eleganza che è diventata il suo marchio di fabbrica. Con l'utilizzo di materiali di altissima qualità e di tecniche artigianali tradizionali, Van Cleef e Arpels ha creato una gamma di orologi e gioielli che sono tanto belli quanto funzionali. In particolare, i suoi orologi da donna sono molto apprezzati per i loro design delicati e sofisticati, che spesso includono pietre preziose e materiali pregiati come l'oro, il platino e il diamante. Molti degli orologi Van Cleef e Arpels sono ispirati alla natura, con dettagli floreali e animali come farfalle, uccelli e leoni. Questi orologi sono molto apprezzati per il loro stile femminile e romantico, e spesso sono scelti come regalo per occasioni speciali come matrimoni e anniversari. In definitiva, Van Cleef e Arpels è un marchio che rappresenta la bellezza, l'eleganza e la raffinatezza. Con la sua gamma di orologi e gioielli di alta qualità, l'azienda si è guadagnata un posto di primo piano nel mondo dell'alta gioielleria e dell'orologeria di lusso. E con il suo impegno per la responsabilità sociale e ambientale, Van Cleef e Arpels dimostra di essere un'azienda che si preoccupa del mondo intorno a noi. Un altro elemento distintivo dei prodotti Van Cleef e Arpels è la loro attenzione ai dettagli e alla qualità artigianale. Ogni orologio o gioiello è realizzato con tecniche tradizionali di alta qualità e passa attraverso rigorosi controlli di qualità per garantire la sua eccellenza. Questa attenzione ai dettagli e alla qualità si traduce in un prodotto finale che è bello, duraturo e senza tempo.